Dal 25 al 29 marzo avrà inizio il progetto Pentameron qui al liceo scientifico, di cosa si tratta? Allora si tratta in due parole di una festa della scienza. Come liceo Adria Ballatore quest'anno abbiamo voluto dare il posto giusto anche alla cultura scientifica. Con questo non desidero affatto mettere da parte la cultura umanistica, assolutamente no. Ma dare la giusta immagine, la giusta luce alla cultura scientifica. Quindi sarà una settimana di giochi, una settimana di seminari, di laboratori, di proiezioni di film. Allora la scienza avrà un volto nuovo per i nostri studenti e per il territorio mazzarese. Non più un volto che è da soggezione ma un volto umano. Abbiamo l'intenzione di presentare la scienza con la sua storia, con le sue passioni, con l'uomo e quindi anche con il suo cuore, non solo con la mente. Quindi un modo per avvicinare i ragazzi ad una materia che comunque a volte sembra fin troppo difficile. Sicuramente, sicuramente. Infatti io penso che uno dei problemi del posto giusto mancato della scienza, oltre che dovuto ad una, secondo me, ad una impostazione di una scuola prettamente umanistica, ma discende anche dalla difficoltà che si ha ad avvicinarsi al codice della scienza, che sicuramente non è molto vicino al linguaggio quotidiano. E che viene vista come, la scienza viene vista come se dovesse parlare solo alla mente. Invece non è così. Io vedo invece nella scienza il piacere della scoperta, il piacere di mettersi in gioco, il piacere del gioco. Certo, anche tanta concentrazione e tanto studio se desideriamo avere dei risultati. E poi oggi, in cui la diffusione dei contenuti scientifici è molto alta, in effetti. Però la consapevolezza ancora no, la consapevolezza e la mentalità scientifica ancora hanno un po' di strada da fare. Ecco, questo è il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di creare, quindi, nello studente, nel ragazzo, sul quale poi dobbiamo puntare, perché il nostro futuro è nelle loro mani e deve essere un futuro più ricco, più ricco come saperi, saperi umanistici e saperi scientifici assieme. Quale sarà il vostro ruolo all'interno di questo progetto? Il nostro obiettivo è quello di creare uno spettacolo che andrà a concludere la settimana scientifica. E questo spettacolo comunque ha l'obiettivo, lo scopo di presentare la scienza a 360 gradi, ma non nella chiave comune e convenzionale che comunque conosciamo, ma in maniera del tutto innovativa. Infatti portiamo tutto ciò che studiamo teoricamente nella vita reale, nella pratica e in un palcoscenico. Quindi la scienza viene vista secondo una nuova ottica e, diciamo, questo è l'emblema del progetto, perché il titolo è proprio Pentameron, dal logos all'udus. Quindi l'obiettivo è proprio quello di conciliare quella che è la teoria con la pratica, il gioco con il discorso, con la teoria. In questo modo vi verrà anche più facile approcciare una materia così difficile. Sì, perché tutto ciò rende anche più piacevole lo studio di quella che è la scienza, di quella che è la scienza che va dalla matematica alla fisica e anche alla chimica.